Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo video vi porto con me in una sessione di reali a State Fishing di febbraio Dunque mi raccomando ragazzi superiamo i 100 like per questo video Mi raccomando lasciate like quando vedete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Mi raccomando non fate quelli dal bracino corto, lasciate questi like che sono gratis e quindi non costano niente E iscrivetevi anche al canale perché è gratis pure quello Dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video E iscrivetevi al canale Andiamo a cercare i big perch e i big zand Cos'era primo o secondo lancio? No primo lancio in teoria Il mare dato prima uscita di pesca? Si Bastardo Questo è bello Oh questo è bellino si Dai dai Oh guarda che bella pighetta Questo è un 45 si Questo è un bel pesce Ok Questo è un bel pesce Dai 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 portalo su portalo su Al canale Dai Paul Bravo Questa è un bel pesce Questa è un bel pesce Questa è una fatta Questa è un bel pesce Questa è un bel pesce Questa è una Questa è un bel pesce chased C'è uno questo il pesce Ma sai come ho mangiato sull'altra? Se non sono ormai, vediamo un 28 No, lui ti ha fatto una botta secca Preso Che vedono? Siamo due Il cavallero non perdono, il cavallo non perdono trapesci e basta cos'è? reggisciare ah ecco perchè? si vabbè mai visto tutto il signore si vabbè anch'io che tu sia dropshed ti dà un vantaggio questa è bella non mi ricordo che senso più sotto del pennellate bello 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 su 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 veloce vedi sta davanti perchè non lo voglio fare via sei dropshed alto? mi fai una foto? ma dai piccolino questo è un 20 ma via così poi non lo prendo questa volta non lo faccio poi diventano il caso che ho fatto due giorni oh bello questa che vedono ah no bel reale su 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 alzalo alzalo no ui ok si questo è un 30 30 qualcosa era troppo corto non volevo che si islamasse mi aveva preso bene ok no Grazie a tutti. 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 Ok... Oh... Ok... 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 Ok...